Il Manfredina Calcio vince e fa divertire al Miramare, una partita vista con il pubblico delle grandi occasioni e più di 4.000 presenze sugli spalti del Miramare. Gli uomini di Mister Agnelli sono scesi in campo con un 4-3-3 e sin dalle prime battute della gara hanno dimostrato di voler portare a casa l'intera posta. Infatti al primo minuto il primo tiro in porta è di basta ma il suo tiro termina alto. Settimo minuto Manfredoni ancora in avanti con Di Noia a palla al centro ma la difesa barese libera. Decimo minuto Lo Slay in avanti con Zotti che su punizione tira la palla contro la barriera e termina poi tra le braccia di Morgillo. Dodicesimo grande discesa di trotta dalla sinistra atterrato da Cannito che nell'occasione prende anche il cartellino giallo. Dal calcio di punizione palla al centro e la difesa libera in angolo. Diciottesimo calcio di punizione per i bianco celesti palla al centro che poi termina in rete ma il gol viene annullato dall'albitro dal signor Simone Di Viterbo per fuorigioco. Trentatresimo Cicerelli dalla sinistra palla al centro dove al brizio di testa non dà il giusto impatto alla palla. Trentaseiesimo ancora Manfredonia in avanti e la borragine a tirare verso la porta ospite ma la palla a causa di una deviazione termina sul palo e salva il portiere De Santis. Nella ripresa il Manfredonia non è pimpante come nella prima frazione di gioco infatti gli ospiti diventano pericolosi all'ottavo occasione per lo Sly e Fogliero a impegnare Morgillo che si supera per le urla di disperazione dei calciatori dello Sly. Decimo minuto ancora lo Sly in avanti, Di Agnè in aria, tiro e la palla termina in angolo sul calcio d'angolo ancora una mischia in aria ma la palla termina fuori. Ventiduesimo cross di Cicerelli per Grumo che impatta la palla di testa si distende De Santis e blocca in due tempi. Al trentaquattresimo la svolta della gara con il meritato vantaggio dei Sipuntini. Grumo dalla destra pennella al centro per Trotta che sottoporta batte De Santis e fa 1-0. Esplode il Miramare. Nel finale è assalto disperato degli ospiti che però non producono gli effetti sperati, anzi al quarantasettesimo è Grumo a divorarsi il raddoppio, complice un grande intervento di De Santis. Dopo cinque lunghissimi minuti di recupero è gran festa al Miramare per una vittoria importantissima da parte dei Bianco Celesti che in virtù di questo risultato agganciano i baresi in vetta la classifica in attesa del recupero della gara con il Necattaro rinviata per maltempo. Gara che si svolgerà al Miramare giovedì alle ore 20. Se il Manfredena riuscirà a battere il Necattaro allora saranno più tre in classifica e potrà guardare da sola tutti dall'alto.